Siamo con Quagliolo e Ramundo, il MVP del match finito 4-3 per la squadra di Ramundo e compagni. Vittorio, com'è stata questa partita? La partita è molto tesa, si era messa bene perché mi ha acconciato a un bel vantaggio, poi ci siamo spianciati troppo avanti e abbiamo subito un po' di una loro iniziativa. Quagliolo, il fatto che tu sia stato il migliore in campo forse dice che hai salvato qualche occasione in più e quindi poteva essere un passivo più pesante? Sicuramente, il problema è che quando il portiere è migliore in campo la squadra non ha funzionato bene, quindi sinceramente preferirei non essere mai migliore in campo. Certo, e con chi ce l'hai in particolar modo? Faccio qualche nome? No, 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 non faccio nomi perché siamo una squadra, quindi quando va male uno vanno male tutti. Cosa c'è da migliorare per questo campionato? Assolutamente la parte difensiva perché perdiamo troppo l'uomo sui ultimi metri oppure quando ci riversiamo troppo in avanti e il campo è vuoto, io mi ci trovo da solo. Certo, quindi praticamente ce l'hai decisamente col tuo difensore, Giaculli? Io non ho niente a che vedere, io sono presenta, numero, soldi. Va bene ragazzi, grazie mille, alla prossima!